E' bella a tutti ragazzi, eccoci qui oggi, tornati su Rainbow Six Siege Allora, cominciamo a rinforzarmi, non parliamo tanto Raga, io vi dico anche un bug che mi è successo, anche se non ci credete a me non interessa Sono arrivato a Oro 2 Stamattina sono sceso a Oro 4 Ma non perché ho fatto delle partite e le ho perse Perché io non ho fatto nessuna partita Ho acceso stamattina e mi sono trovato il grado a Oro 4 Quindi, vabbè, ovviamente questo gioco deve essere sempre bugato Questa è la cosa Vediamo un attimo Che schifo di telecamera Schifo Ho sentito Raga, io provo a freddire Ma c'è già questo Vai Niente Che No, vabbè, è ferito, dai Dai, no L'ho conteso Lo contengo Ok, vai No Io provo ad andare da lui Ma No, sono caduto Non ci credo Che fail Però uno è ferito Uno è ferito Io sono morto Io sono morto Vediamo lui che fa Io c'ho le telecamere Eccolo Questo è ferito Raga, questo qua Uno contro uno Raga, dai Vi prego E quello lì Con conteso Raga Grande Primo round Vinto A culo Questo è abbastanza A culo Vabbè, una kill L'abbiamo fatta Anche se quello è ferito E poi è morto Comunque, ci vediamo Al secondo round Eccoci qui Comunque Ho visto un attimo I gradi E se andiamo a vedere Non hai per danno Il livello 265 Raga Quindi ci sta Cioè Eccolo qui Il twitch Comunque Per questo round Ho voluto prendere IQ Operatore Utilissimo Veramente Quindi Vediamo un attimo Ecco Hanno pulse Quindi posso vedere Con radar Quindi Eccolo Eccolo Pulse Eh No Vabbè Non ce la fa No Non l'ha manco visto Dove stavano sparando Eccolo Dai Perché Ce la potevi fare Ok Grande Ora Però curate a quello Raga Se non muore Cura Curatelo Ok Però Se ora Qualcuno Che lo protegge Raga Per forza Dai Ci puoi fare Grandissimo Quattro contro due Vediamo un attimo Ma io ho dei droni utili No Vediamo un po' Vai Spacca Grande Vediamo il twitch Grande Dai 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 Che C Ok Vabbè Comunque Io sto round Non l'ho fatto Assolutamente Niente Cioè Raga Proprio Niente Quindi Vabbè Una kill Così facile Ci vediamo Al prossimo round Eccoci Raga In armeria Siamo pronti Abbiamo già Anche un bel rock Quindi ci corazziamo Bene Sembra Se lascia Le corazze E oppure Solo smoke Così Almeno Non li facciamo Entrare Si spera Quindi Prendiamo le corazze E andiamo Avanti Allora Qui Avevo Rinforzato Tutto La botola La fate O la faccio io Se non la fate La faccio io Non ci sono problemi La faccio io Vai Allora Raga Mi sono posizionato Qui Vediamo Un attimo Che riesco A fare Perché Secondo me Qualcuno Può venire Da qui Non è ditta L'ultima parola Allora Tutti qua Stiamo Che cosa Ah qui Hanno ammazzato Uno Se rimani in questa zona Il nemico Ti scoprirà Ma Non c'è nessuno Che co Che Da dove Regà Non ho capito Assolutamente Da dove è entrato Regà Da dove Ma Io non ho capito Regà Da dove è entrato C'è Non so neanche Dove sono Gli altri Ecco Infatti Assist Però Non ho capito Da dove è entrato Vabbè Ti è ferito Il mute Allora Ok Boh vabbè Comunque Non so da dove Si è entrato Ash Comunque Ah io ho perso La speranza Di fare una kill Comunque Ah ok Entri da qui Regà Eh l'ho visto L'ho visto Grandissimo 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 Comunque Questa squadra Mi piace Anche se io Non sto facendo niente Comunque Anche l'altro Non sto facendo niente Quindi Cioè Io provo Con le telecamere A vedere Ma Non so dove sia Ok Vabbè Regà Stta squadra È fortissima A me piace così Vediamo come L'ha killato Ma così Esce E ci sta Dai Ok Regà Per questo Ultimo round Si spera Si spera Ho preso il capitau Ho preso il capitau Quindi Andiamo a mettere Un po' Di fuoco Sparso Ma do Però Fatemi fare Due kill Cioè Voglio farle Due kill Vediamo Vediamo se qualcuno Spunta Vediamo Vediamo Dai Muori Io ci provo A lanciarne Un'altra Ne Se non mori Ora Che ca Vabbè Cioè Andiamo da sopra A sto punto Vai vai Ammazza tutti Che Vabbè A mia ammazza Twitch No eh Vabbè Regà Comunque Cioè Ah Era qui Bastardo Niente Regà Sto facendo Schifo Ma schifo Veramente Cioè Cioè A me va bene Però Sto facendo Veramente Schifo Vabbè Quindi Manca Mute E regà A me va bene Anche se Vabbè Non parliamo Del risultato Perché ho fatto Schifo Ma schifo Uno scandalo Vabbè Comunque Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollice in su Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Al prossimo video Bella ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti